Proseguono senza sosta i lavori alla vasca di accumulo o vasca di prima pioggia alla foce del torrente Arzilla a Fano. Dopo la posa della fondazione in cemento armato in notturna la settimana scorsa, oggi gli operai sono all'opera per concludere i lavori nei tempi stabiliti, come ci tiene a sottolineare il presidente di ASET Paolo Reginelli. Allora noi prevediamo che questo impianto debba essere in funzione per la prossima stagione estiva, per la chiusura dei lavori penso che i primi mesi del 2021 saranno quelli importanti, naturalmente il tempo gioca un ruolo molto importante, fino ad oggi non c'è stato nessun genere di limite o di limitazione appunto dovuto alle condizioni atmosferiche, speriamo che possa continuare così. L'interruzione del Covid non c'è stata in nessun modo né fatale né ha provocato grossi problemi perché abbiamo sostituito quel periodo con il periodo dell'estate nel quale abbiamo lavorato, probabilmente è stato creato qualche disagio ai cittadini qui, residenti qui intorno, però hanno risposto molto bene, con grande senso di responsabilità, vi ringrazio ancora una volta, poi le squadre che abbiamo sul cantiere sono estremamente operative, quindi le cose stanno andando esattamente come dovevano andare e come le avevamo previste. La realizzazione della vasca ha ottenuto 493.000 euro di finanziamento dall'Unione Europea e rientra nel progetto Watercare, finalizzato al completo risanamento ambientale del torrente Arzilla e ad una definitiva riqualificazione delle acque di bagnazione interessate dal corso d'acqua. L'opera della portata di 1600 metri cubi avrà il compito di coinvogliare le acque piovane e le acque refule per evitare che prima finiscano nel torrente Arzilla e poi in mare, provocandone l'inquinamento. Con questo intervento si migliorerà così la balneabilità estiva. Abbiamo realizzato la soletta in cemento armato per uno spessore di 1,20 m e adesso stiamo predisponendo il ferro per le pareti, poi procederemo con la casseratura e l'ulteriore getto per le pareti e la soletta superiore. Quindi in totale poseremo in opera circa 2200 metri cubi di cemento armato. Grazie.